Citroen DS3 Racing, look aggressivo e piacere di guida assicurato. Ecco una vettura pensata per gli amanti della guida sportiva, con un look giovane per farsi guidare ma anche guardare. Studiata dal pluripremiato reparto corse Citroen, 6 titoli costruttori e 7 titoli pilota con Sebastian Loeb, realizzata in 2000 esemplari questa DS3 Racing possiede tutte le carte per conquistare un pubblico giovane ma anche gli amanti della guida sportiva. Alla guida la DS3 Racing regala emozioni per palati fini ma sarà sicuramente apprezzata anche da utilizzatori meno esperti. Pur mantenendosi confortevole, sicura e dolce nell'erogazione di potenza, l'auto cambia letteralmente faccia quando si decide di dar fondo a tutta la grande energia del motore. L'acceleratore ad esempio sottolinea un leggero indurrimento accompagnato da un piccolo click al superamento dell'80% dell'apertura. Il motore mostra un vigoroso incremento di coppia una volta raggiunti 4.500 giri e da questo punto l'ago del contagiri schizza verso gli alti regimi con una rapidità da auto di razza. Cambio di faccia anche per l'assetto neutro e sicurissimo in ogni condizione. Nella guida di tutti i giorni risulta abbastanza confortevole, mentre nella guida sportiva è rigido e preciso come ci si aspetta da una vettura con vena corsaiola. La frenata è potente e sicura grazie all'adozione di pinze brand, naturalmente di colore rosso. Il cambio a 6 rapporti è preciso e morbido, la corsa è relativamente corta. Prestazioni da record per un 1600 cm³ con ben 207 CV ed una coppia di 275 Nm a 2.000 giri. Accelerazione da 0 a 100 km orari in 6 secondi e mezzo e velocità massima di 235 km orari. All'interno i sedili sportivi in pelle ad alcantara, ad alto contenimento, non essendo rigidi sul laterale ma imbottiti, offrono un'ottima tenuta nelle curve senza risultare scomodi nell'entrata e nell'uscita dall'auto. L'aspetto estetico è molto curato e si basa su colorazioni bicromatiche, arancio-nero e bianca-grigia come la vettura in prova. Entrambe personalizzabili con sticker aggiuntivi, presentano una finitura con particolari in carbonio di ottima fattura sia all'esterno, nei passaruote e spoiler anteriori e posteriori, che all'interno nella plancia a cruscotto e nella cornice maniglie portiere. Il consumo di carburanti non è da record ma, variando tra gli 11 e i 13 km litro, ha un giusto rapporto rispetto alle prestazioni offerte. I cerchi in lega sono da 18 pollici di nuovo disegno ed ospitano pneumatici da 215 con spalla ribassata da 40. Il sistema multimediale offre navigatore satellitare con display da 7 pollici in 16 noni, vivavoce bluetooth di ultima generazione, radio cd mp3 ingresso house, impianto audio con sistema Dolby Surround. Per concludere la DS3 Racing è la vettura ideale per chi cerca un'auto sportiva da grandi emozioni a costi abbordabili.